Ciao studenti, oggi parleremo della Gerusalemme liberata di Tasso, che fu accolta come il capolavoro di Tasso, ma in realtà l'autore non fu mai soddisfatto, anzi la sottopose a molte modifiche. Cambiò il titolo in Gerusalemme conquistata, passa da 20 a 24 canti ed elimina molti episodi. In realtà ebbe comunque più fortuna la versione precedente, che è quindi un poema eroico diviso in 20 canti di ottave di endecasillabi. Sceglie come argomento la prima crociata, un avvenimento lontano nel tempo per avere maggiori libertà. I personaggi principali sono realmente esistiti e le azioni che fanno sono verosimili. I miracoli e le magie sono dovute dalle opere di Dio. Tra i temi troviamo quello religioso, cioè il conflitto tra le forze del bene e quelle del male, e quello dell'amore, che è l'unica forza in grado di conciliare anche gli schieramenti opposti. Scompare l'io narrativo e usa uno stile molto sublime.